Siamo con mister Mastecchia della Fragolese, mister 1-0 sul campo del Forio, un attimo a Fragolese, forse è stata una partita un po' più dura del previsto. No ma noi sappiamo che quando si viene sull'isola con grande umiltà sappiamo che era difficile, qua anche negli anni scorsi si sono persi sempre punti. La stessa Putiolana che sta avendo questo cammino come noi, qua pareggiato, però tutto sommato se andiamo a contare le palle gol sprecate penso che poteva essere più rotondo. Sì abbiamo sofferto un attimino all'inizio ma noi come capolista ce lo dobbiamo aspettare, sta succedendo addirittura che qualche squadra la domenica prima che ci affronta, se ci fate caso, dall'anima da tutto poi per due o tre domenica non fa risultato perché si spregano molto energie. Noi questo lo sappiamo, ci dobbiamo far trovare pronti con umiltà, sappiamo che dove andiamo andiamo ci aspettano. Noi abbiamo, io dico sempre purtroppo e per fortuna questa cosa di dover sempre vincere, per fortuna perché la società ha allestito una squadra importante e dobbiamo vincere. Ma per sfortuna perché vincere sempre non è facile, oggi siamo su 11 partite 10 vittorie, c'è il rammarico per Casoria, però tutto sommato abbiamo vinto la partita dei quarti di finale contro il Pomigliano che la ritengo una delle squadre più forti del girone. Io a questi ragazzi devo fare solo un plauso, ma tutta la rosa per quello che mi stanno dando come uomini e come calciatori. E se non ci nascondiamo l'obiettivo è vincere il campionato? Sì, noi siamo insieme a 3-4 società che secondo me hanno fatto investimenti come la Fragolese e dobbiamo cercare di vincere questo campionato. Sicuramente noi per questa maglia, per questa società, per questa piazza daremo fine all'ultima goccia di sudore e anche di sangue se ci fosse bisogno. Però sappiamo che la strada è lunga, dobbiamo lavorare, ci aspettano delle partite importanti, ripeto il ritorno dei quarti di finale con il Pomigliano. Però ci faremo trovare pronti con la speranza di recuperare ancora qualche altro giocatore e poi via via guardiamo partita per partita. Rosa di grandissimo livello, ma serve ancora qualcosina in più a questa Fragolese o così si può andare avanti? No, la rosa è di grandissimo livello, però non ci piace piangere su queste cose. Però se voi ci avete seguito, noi per i primi due mesi abbiamo tenuto ben sette giocatori fuori. La rosa si vede se tu la puoi sfruttare e usufruire su tutti i fronti per tutte le partite. Ma noi veniamo da due mesi, ho avuto tre attaccanti fuori del calibro di Fava, Befi ancora che non gioca. È lungo che per un mese e mezzo tra infortuni, ripeto, vari, non li ho potuti usufruire. Gli altri hanno fatto il loro dovere e perciò questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario perché vincere sempre, nonostante pure le carenze che abbiamo avuto, è qualcosa di straordinario. Complimenti a loro. Grazie mille, grazie a voi.